Sono messi in fila ordinatamente, hanno atteso sotto la pioggia e poi hanno preso posto nella sala concerti di Ginevra rispettando l'enorme antivirus sul distanziamento pur di tornare ad ascoltare ottima musica. È stata la conferma che la pandemia non ha affievolito la passione per l'arte. Alle gallerie degli uffizi la scena si è ripetuta. Oltre 8.000 visitatori accolti dal direttore Schmidt nel primo weekend di apertura. Quasi tutti italiani, tantissimi fiorentini che si sono riappropriati delle bellezze che questo scrigno conserva. Hanno scelto la galleria delle statue e delle pitture, hanno passeggiato nel giardino di Boboli, sono entrati a Palazzo Pitti alla scoperta dei tanti tesori dell'ex reggia Medicia. Il picco più alto delle presenze è proprio agli uffizi in una domenica di ritorno alla normalità con più di 2.000 visitatori durante tutto l'arco della giornata. Numeri positivi che testimoniano la necessità di rivolgersi all'arte e alla nostra cultura in questa fase di ripresa, ad ogni latitudine. A Bordeaux, in Francia, un'ex base di costruzione per sottomarini è stata convertita nel più grande centro d'arte digitale. La struttura, costruita durante la Seconda Guerra Mondiale, ha trovato una destinazione artistica d'avanguardia, proponendo un viaggio pioneristico ed un'esperienza che cattura tutti i sensi.